Famosissima per la sua presenza giornaliera nel dating show di Maria De Filippi, Tina Cipollari ha incuriosito tutti con l'evoluzione della sua dieta. L'opinionista di uomini e donne doveva perdere 20 kg. Lo scorso fine settembre aveva deciso di iniziare la dieta. Partiva da 84 kg iniziali, non è stato facile, ma ha raggiunto il suo obiettivo, tornare ad una forma top. Dopo 9 mesi dall'inizio della dieta, la 54enne sorride, si mostra sui social, si sente bene e lo fa vedere in foto. Forse non è ancora al traguardo dei meno 20 che tanta auspicava, ma la sua linea è splendida.